I segni che andrò a citare in questo video saranno quelli che affronteranno i maggiori cambiamenti da oggi fino al 2043 pertanto ragazzi se volete approfondire di più guardate questo video fino in fondo perché sicuramente ce ne saranno delle belle partiamo da tutti coloro che hanno nel loro tema natale almeno la presenza di un segno dell'acquario l'acquario sarà quello che cambierà drasticamente i connotati della sua vita diciamo che ha passato gran parte dei suoi anni con il freno a mano è come se avesse comprato una macchina appena acquistata e come sempre il rodaggio è quello che ti rompe le palle non puoi tirare più di un tot di giri perché altrimenti il motore non sarebbe abbastanza pronto da sostenerli ebbene l'acquario diciamo che ha finito il freno a mano ha rodato anche fin troppo il motore e talvolta diciamo che forse è anche stato sin troppo responsabile e finisce qui ragazzi finisce qui anche per chi ce l'ha in una relazione l'acquario inizierà ad essere un pochino più non voglio dire che sarà una persona cattiva e più severa ma avrà più polso nel mandare a quel paese anche situazioni in cui magari prima risultava un pochino più accondiscendente e ora penserà più a se stesso i cambiamenti che riguarderanno l'acquario non saranno soltanto nel modo che avrà di rispondere alle persone rispetto a come faceva prima che appunto sembrava forse leggermente più umile sarà una persona molto più piazzata anche dal punto di vista mentale e il cambiamento più importante è proprio dovuto al fatto che Plutone fino al 2043 rimarrà su di lui questa è sicuramente una grandissima amplificazione dell'ego dell'acquario ma non è un'amplificazione dovuta ad un ego che già prima c'era perché era spento prima ora l'acquario inizierà a risalire la china e questa china non soltanto poi lo porterà a superare tante persone che nella vita avevano sempre pensato male di lui ma oltre a questo riuscirà a rendere felici anche le persone che gli staranno intorno per cui se avete una famiglia con l'acquario avete un figlio volete fare un figlio comprare casa andare a vivere alle Bahamas lo potete pensare di fare perché l'acquario sarà in grado di sostenere queste spese e anzi non soltanto potrà anche farne due tre quattro volte di più questo è perché l'acquario cambierà tantissimo passiamo ora invece al segno del leone ma qua stavolta voglio fare una sottolineatura il segno del leone è ascendente principalmente sarà quello che cambierà principalmente dall'oggi fino al 2043 perché il leone negli anni che furono ha sempre preso cantonate in amore non era mai stato veramente per più di un anno con una persona che non finiva perché magari questa persona non lo so io veniva da una relazione non ce la faceva stare con lui oppure era una traditrice non ce la poteva stare con il leone oppure era una persona troppo poco incentrata nel ammirare il leone insomma non trovava mai la persona giusta ebbene questa cosa qui questa sfiga universale sta per finire il leone e però purtroppo so bene che quando diciamo che senti che la fortuna è dalla tua parte in realtà il tempo che vuoi dedicare principalmente non è più al trovare qualcuno bensì più a te stesso ed è vero che il leone durante il 2024 ha iniziato proprio con le marce già innestate verso la quinta e la sesta marcia per dare il massimo e ottenere più risultati possibili in termini finanziari ma è anche vero che c'è sempre quel buco nel cuore che lo porta sempre ad immaginare come sarebbe tornare a casa aspettando un piatto caldo preparato dalla sua lei o dal suo lui questo potrebbe capitare, questo potrebbe essere non soltanto qualcosa che potrebbe capitare occasionalmente ma potrebbe essere un qualcosa che capita quotidianamente il leone avrà l'opportunità di conoscere e di incontrare nuove persone durante tutti questi anni che saranno e potrà veramente avere la scelta lui selezionare quello che gli pare piace in base ai suoi gusti e ai suoi cacchio di voleri basta un altro grande segno che sarà veramente il protagonista di questo ventennio che ormai ci si prospetta davanti sarà il segno del toro che voi lo abbiate come segno solare, come segno ascendente o anche come luna diciamo che secondo me sareste affetti principalmente proprio per questa ragione perché anche per il toro ragazzi ci sono stati condizioni favorevoli soprattutto nel 2023 per chi ha seguito i miei video sapeva che Mercurio sì Mercurio perché Giove è entrato in toro il 25 di maggio del 2023 ebbene questo grande transito è stato sì essere un rifiatamento se si dice così in italiano per il segno del toro perché ne aveva passate molte nel 2021 e 2022 ma ciò non ha voluto comunque portare il toro a compiere il passo più importante della sua vita ovvero quello di voler cambiare del tutto i connotati della sua vita del suo cavolo di teatro che ha sempre comunque animato allo stesso modo perché il toro si era sempre sentito monotono lui piace sì la monotonia ma la monotonia per il toro deve essere un qualcosa che lo fa star bene non una monotonia noiosa una monotonia che lui è contento di avere ebbene non era mai stata raggiunta la monotonia piacevole ed è quest'anno qui che il toro inizierà ad assaporarla e ce la farà sapete come iniziando veramente ad apprendersi i rischi di alcune scelte che prima non pensava mai e neanche minimamente immaginava di anche soltanto avvicinarsi a fare queste scelte perché il toro essendo molto responsabile essendo molto parsimonioso nella gestione dei rischi è una persona che quando tende a mettere in palio troppe cose poi alla fine ritira tutto e se ne ritorna nel suo guscio questa volta non sarà così per cui se lo avete come partner o se lo avete conosciuto in un modo durante gli anni che furono queste che verranno saranno anni completamente differenti avrete un toro davanti completamente più potente un toro più proiettato al successo talvolta anche più materialista del solito però ovviamente questo è perché il toro vuole farcela e vuole mollare dietro tutte le disgrazie che gli sono capite e chiudiamo il giro con il segno dello scorpione e qui ovunque voi lo abbiate secondo me avrete veramente culo perché lo scorpione in qualunque parte del tema natale a prescindere quest'anno qui sarà la parte più pompata immaginate di averlo avete mercurio in scorpione? perfetto sarete dei grandissimi oratori in senso che le persone vi ascolteranno e crederanno in quello che direte se avete mercurio in scorpione? perfetto avrete il vostro modo di amare molto passionale sarete probabilmente dei latin lover se avete scorpione in sole, ascendente o luna molto probabilmente avrete l'effetto maggiore perché comunque sono queste le triplete sono i big master di ognuno di noi che quando lo scorpione fondamentalmente ce l'hai nel sole beh ragazzi le persone notano un cambiamento importante proprio alla luce del sole se lo avete come ascendente siete voi dentro che sentirete dei cambiamenti che vi porteranno ad approcciare i problemi in modo diverso ma se ce l'avete nella luna beh le persone a voi intorno più care, intime alle quali veramente volete un bene dell'anima loro sentiranno che dentro di te sta cambiando qualcosa quindi scorpione perché cambierete? perché è normale il vostro pianeta Plutone sta finalmente andando in acquario anzi c'è già andato e quando il tuo pianeta che è Plutone cambia e soprattutto anche con gli allineamenti che ora verrà tra qualche giorno tra Marte e Plutone che Marte è nuovamente Marte e Mercurio scusate che Marte è nuovamente il pianeta in cui tu hai domicilio ragazzi lo scorpione verrà enfatizzato da una carica micidiale di istinto di talento mentale che è veramente imparagonabile a qualunque tipo di studio di bocconiano che esiste al mondo potete essere andati ad Harvard alla Bocconi potete essere andati a studiare anche alla NASA ma lo scorpione per quest'anno qui e soprattutto per il prossimo ventennio non ce ne sarà per nessuno inizierà a costruire il suo impero inizierà a vedere come le persone inizialmente che lo disprezzavano magari non lo seguivano ora inizieranno ad andare verso di lui perché lo scorpione assumerà un magnetismo fuori dal comune ma ciò non toglie però che comunque deve stare attento attento agli sciacalli perché ci sono sempre e saranno sempre pendenti nella sua vita per buttarlo giù per cui ragazzi fatemi sapere se questo video vi è stato utile voi sarete segni che cambieranno principalmente ma ciò non toglie che ci saranno anche bilancia cancro che avranno qualche cambiamento molto importante per cui restate aggiornati e guardate sempre i miei video per capire che cosa capiterà ciao ciao ciao